Lo capisco, devi licenziarmi. Stai per far perdere a questa società 972 milioni di dollari. Piengo molto ultimamente. Drew, devo darti una bruttissima notizia. Papà è morto. Torno fra due giorni. Porta solo papà a casa. I due ami di questa famiglia non sono mai andati d'accordo. Non aspettarti di farti degli amici, quindi. Drew non è capace, mamma. Sono pieno gli amici. L'uva a Kentucky, eh? Veramente vicino, Louisville. L'uva? Louisville. L'uva. Cercherò di ricordarmelo. Affari o questione di famiglia? Mio padre. Sta bene, vero? Sì, bene. Ci sono tutti, cugino. Questa perdita sarà compensata da un uragano d'amore. Sei identico a tuo padre! Spero che ti fermerai un po'. Lo zio Mincio voleva che ci conoscessimo. Dicono tutti che siamo uguali. Strano, eh? È come guardarsi allo specchio. Pronto? Ciao, straniero. Volevo dirti la verità. Mio padre è morto. E non vogliono che sia cremato. Ma non esiste una cremazione parziale. Ah, è come di salta in mente una cosa simile. Oddio. Le cose sono o bianche o neve. Ogni giorno deve avere uno scopo. È incredibile che lo stia dicendo a qualcuno. A volte è la fine del viaggio di un uomo. Tu e tuo padre eravate molto legati. Molto legati. Lo conoscevo molto, molto bene. Molto, molto bene. Beh, io non conosco molto bene neanche mio padre. È l'inizio della vita di un altro uomo. Avremmo dovuto fare questo viaggio anni fa. Questo è per te. Ti amo. Quello che vedi non sono proprio io. Il vero me stesso è uno straordinario fallimento. Cerchi in continuazione di rompere con me. E non stiamo neanche insieme. Ah, no? Ti prego non prendere questo come un rifiuto. Giuro che non lo sarò. Elisabetta. No! No!